Buonasera, buonasera, buonasera di Caserta Nuova, ci troviamo presso il giro di un sportivo di San Antonio Trasso, come potete vedere in azione in questo momento i piccoli campioni dell'ASP Tecondo Caserta, bambini dai 4 ai 7 anni, con le 17 alle 18, il maestro Nicola Fusco, il presentante del Tecondo per Caserta, è stato...